Norme farraginose, regolamenti edilizi diversi da comune a comune, lentezza delle pratiche, queste sono alcune delle difficoltà nel lavoro dei professionisti che operano nel campo dell'urbanistica che rischiano di favorire anomalie nei rapporti con la pubblica amministrazione. Pochi giorni dopo l'arresto di Lucio Canio Tolve, il geometra dell'ufficio urbanistica di Palazzo Vecchio, sorpreso dopo la denuncia delle sue vittime, un ingegnere e un architetto ad intascare una mazzetta di 1000 euro per sveltire una pratica, mentre la procura indaga per capire se quella tangente sia stata l'unica o se ci siano altri casi di concussione anche solo tentata e dopo l'appello dell'assessore all'urbanistica di Palazzo Vecchio, Elisabetta Meucci, ai professionisti che hanno a che fare con gli uffici del comune di Firenze a denunciare eventuali anomalie, parlano proprio i professionisti dei problemi che rischiano di far proliferare pratiche illecite nei rapporti con l'amministrazione pubblica. Sicuramente la lentezza delle pratiche favorisce questo tipo di situazioni che io credo comunque siano assolutamente puntiformi. È altrettanto chiaro che la farraginosità della norma, il fatto che ogni norma sia a fastella sull'altra, regolamenti edilizi complicati e tutto, favoriscono la nascita della zecca Garbugli di Turmo nel termine manzoniano che in qualche modo offre una scappatoia rispetto alla macchina della burocrazia che è sicuramente in mano. Ma soluzioni sono possibili. Noi già da un paio di mesi ci siamo incontrati con l'assessore e abbiamo offerto la possibilità di utilizzare un invio telematico delle pratiche tramite una piattaforma che è stata messa dal nostro Consiglio Nazionale degli Architetti che permette la tracciabilità costante di tutta la pratica, i tempi di evoluzione della pratica e soprattutto il carico di lavoro dei tecnici, il modo di esecuzione e il monitoraggio di tutte le fasi intermedie. Questo potrebbe essere senz'altro un sistema, ma l'ha già accennato anche l'assessore Meucci, per cercare di mettere trasparenza rispetto alle pratiche edilizie e all'operato dell'ufficio.